Con oltre 17.000 tonnellate di rifiuti conferite dai cittadini nel corso del 2023, gli ecocentri si dimostrano realtà sempre più centrali nella strategia di Alia Multi-Utility per migliorare ulteriormente la quantità e la qualità della raccolta differenziata. Lui evidenziano i numeri degli accessi in costante crescita che complessivamente, sempre nel 2023, hanno superato quota 482.000 da parte di 160.504 utenti nei 31 ecocentri presenti sul territorio dei 58 comuni gestiti da Alia nella Toscana centrale. Si tratta di risultati molto positivi, consolidati dopo anni di intenso lavoro sul campo, svolto con l'obiettivo di rafforzare sempre di più nei cittadini la sensibilità verso l'importanza di queste strutture attrezzate e sorvegliate in cui sia gli utenti che le aziende private possono recarsi per portare gratuitamente i rifiuti urbani e conferirli in maniera corretta. Hanno regole semplici, ma invitiamo i cittadini e le imprese a consultare il nostro sito www.aliaserviziambientali.it e utilizzare la app di Alia, scaricabile da tutte le librerie elettroniche, per consultare le regole e gli orari di apertura. 31 ecocentri su cui noi continueremo ad investire per aumentarne il numero, ampliarne la disponibilità e soprattutto è un servizio gratuito. Invitiamo per questo cittadini ed imprese ad utilizzare i nostri ecocentri per il conferimento dei propri rifiuti. I vantaggi legati agli ecocentri riguardano sia i singoli utenti che la collettività nel suo insieme perché accedendo alle strutture che si trovano nel proprio comune di residenza o in un territorio limitrofo è possibile contribuire concretamente all'avvio e al recupero dei beni durevoli utilizzati nell'abitazione e al corretto smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi come vernici, acidi, fitofarmaci e altri prodotti chimici di provenienza domestica. L'impegno dei cittadini è premiato con riduzioni della parte variabile della tariffa rifiuti proporzionata ai conferimenti stessi in ottemperanza ai diversi regolamenti comunali.